Io sono Pantalone, sono la maschera veneziana della comedia dell'arte per eccellenza, ma non sono sempre stato Pantalone, una volta mi chiamavano il Magnifico, quando ero il Magnifico ero più giovane, ero più aiutante, ero un guerriero, ma poco a poco sono diventato sempre più vecchio, sempre più vecchio, sempre più vecchio, sono diventato curvo, 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 sapete perché? Perché qui avevo i soldi e li proteggevo, sempre più vecchio, ma due cose ancora mi mantengono l'attenzione molto sveglia, i soldi e l'altra cosa che mi piace, infatti se vedo una bella donzella di lì cosa faccio? Vado! E ne vedo un'altra di lì cosa faccio? Vado! Perché? Perché voglio lì andare a fare cosa? A fare niente qua, è tutto secco, capito? Però sono molto importante, sono molto importante nella comedia e nella vita, anche la vostra, sapete perché? Venite, venite, venite che mi spiego. Io vi ho lasciato una cosa in eredità, sono vecchio, sono taccagno, sì lo so, ma vi ho lasciato una cosa in eredità, i gesti dell'economia, della negoziazione, questo gesto, sapete cosa vuol dire, è vero? È un violino che suona molto bene, l'ho inventato io, cosa ho inventato anche? Questo qui, questo gesto l'ho inventato io, il gesto è rubare, rubare c'è sempre stato, ma il gesto l'ho inventato io. O per esempio, quando siete in una negoziazione, che vi arriva la merce, state guardando e dite che bella merce, come fate con questo gesto? Che bella merce! E allora tu chiedi, quanto costa? E ti dice un milione, cosa fai? Lo stesso gesto, però guardi indietro e dici, come fai? Che bella merce, quanto costa? Un milione, e allora ti dice, no ti faccio 50% di sconto, e allora tu cosa fai? Lo stesso gesto, dici, va bene, va bene, va bene, va bene. O quando tu dici, più o meno, cosa fai? La bilancia, più o meno, questo l'ho inventato io, l'ok, non l'hanno inventato gli americani, l'ok l'ho inventato io, l'ok l'ho inventato io, l'ok. Quando io dico, è così e basta, o quando dico, è perfetto, l'ho inventato io. E l'ultima cosa, la più importante, ho inventato l'accordo. Quando siamo d'accordo, io dico siamo d'accordo, però questo è un accordo legale, questo è l'accordo con IVA, c'è anche un altro accordo, questo, questo è senza IVA, con IVA, senza IVA, con IVA, senza IVA, con IVA, senza IVA, con IVA, senza IVA.